Il Papa Pio XII a suo tempo fece una triste constatazione che piano piano nella società e quindi nei cristiani veniva a scomparire il senso del peccato. Il peccato in sostanza è il rifiuto di Dio, quindi non dare valore al peccato e quindi mettere in discussione anche la relazione con Dio. Anche offendendo l'uomo si può ferire Dio perché l'uomo è stato salvato da Cristo e fa parte della vita. Riconoscersi peccatori è possibile alla luce della fede ed è una vittoria sulla superbia e l'orgoglio. L'uomo è eminentemente superbo e orgoglioso e quindi tende a non accettare una situazione di peccato. La motivazione per cui viene a mancare questa tensione rispetto alla realtà del peccato dipende da varie situazioni moderne, per esempio la crescente secolarizzazione del popolo, lo sviluppo delle scienze umane che danno una certa soddisfazione all'uomo. L'uomo che si autogestisce con egoismo può produrre la morte, basta pensare a Chernobyl oppure basta pensare alla fame nel mondo. La scrittura, meglio il Vangelo, ci parla della parabola del figlio prodigo. Bellissima la parabola. C'è un padre che vuole bene ai figli, ha creato una situazione anche soddisfacente di ricchezza per i due figli e uno di questi, un po' moderno, chiede le proprietà e va via. E immaginate la durezza di questo gesto verso il papà. E poi si incolfa nella vita di peccato, distrugge tutti i suoi averi e va a finire a pascolare i maiali. E qui ritorna in se stesso, ritornerò da mio padre e dirò, abbi pietà di me, trattami non più come figlio ma come tuo garzone. E invece il papà sta sulla porta della casa a guardare se il suo figlio ritorna o no. E quando un giorno lo vede da lontano comincia a correre e lo abbraccia e lo bacia e il figlio si getta per terra in ginocchio, non sono degno di essere chiamato tuo figlio. E il papà chiama i servi, mettetegli l'anello al polso e rivestitelo di dignità. Era un figlio che è perso ed è ritornato in vita. Le tentazioni quindi del peccato ci portano lontano da Dio, ma Dio non ci abbandona mai. Ci segue sempre con la sua bontà, con la sua paternità per la nostra redenzione, per la nostra salvezza eterna.